Francesco De Muro ha iniziato giovanissimo ad esibirsi in pubblico, con un quartetto chiamato Mini Cantadores, composto da quattro bambini in età compresa fra i 10 e i 14 anni. Verso la fine degli anni 90 raggiunge una grande notorietà, fra gli amatori del canto sardo, ed è considerato uno degli interpreti più rappresentativi. Nel 2003 insieme a Maria Luisa Congio realizza la sigla di uno dei programmi TV, della emittente Sarda Videolina, più seguiti in Sardegna, Sardegna Canta, un programma dedicato al folklore.